Era stato progettato nel 2013 da alcuni studenti dell'Istituto Fermi di Bibbiena. Si trattava di un seggiolino che avrebbe potuto salvare la vita dei bimbi lasciati in auto dai genitori. L'ultima tragedia che si è verificata a Vada ha riportato l'attenzione sul problema che ritorna ogni estate. Il progetto degli studenti aretini è stato segnalato dall'assessore Ceccarelli al ministro del Rio. Se fosse un'impresa lo metterei subito in produzione. Così Rossella Palomba del CNR di Roma mentre racconta del seggiolino fatto apposta per non dimenticare i bambini in auto messo a punto dai ragazzi dell'Isis Fermi di Bibbiena che si è aggiudicato il primo posto alla quarta edizione dell'Inv Factor Anche Tu Genio. Tra i 42 progetti presentati dalle decine di scuole che hanno partecipato in tutta Italia quello della quarta professionale dell'Istituto Bibbienese è arrivato primo ed è anche l'unico a rappresentare la Toscana. Il progetto è stato premiato non solo per il suo funzionamento ma anche per l'attenzione ai fatti di cronaca che hanno raccontato troppe volte di questi gravi episodi costati la vita ai piccoli dimenticati in auto dai genitori. Il seggiolino che si chiama Ricordati di me può funzionare in autonomia oppure integrato all'impianto dell'auto. Si attiva quando il motore viene spento e la portiera del guidatore viene aperta. Prima fa abbassare i finestrini visto che molti bimbi sono morti per asfessia, poi fa lampeggiare le quattro frecce e suonare il clacson. Se questo non basta per capire l'attenzione del genitore, i ragazzi hanno ideato un sistema di SMS a ripetizione ad un numero di telefono del tipo Mamma, sono in auto, aiuto. Una tecnologia semplice, afferma la dottoressa Palomba, ma in grado di salvare tantissime vite.